buongiorno chef oggi cosa bolle in pentola salutiamo il chiatone e non solo bravissimi bravo bravo giusto cosa facciamo in particolar modo volevo ringraziare anche a tutti quelli che mettono i miei piaci e commentano in particolar modo brava grazie per i vostri commenti oggi allora che cosa bolle? oggi facciamo i ravioloni essendo il periodo dei porcini si si perfetto con un coppapasta stavo facendo i dischetti per il raviolone quindi pasta fresca si si assolutamente qua ho fatto ricotta si con i porcini mettendo un po di pomodoro che mi piace sempre sale e pepe quanto basta e un po di grana per amalgamare un po il tutto benissimo bravo vai ovviamente mi conviene sempre spagnare un po il porto per far attaccare il raviolone si così non si stacca nella cottura è giusto e imbarate con cosa bene bene queste mani di fata guarda 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 che bello queste sono proprio adatte per il nostro chiatone belle hai capito? a forma di chiatone beh a forma di chiatone a forma di quella pancia che c'ha poi dobbiamo sempre sperare chi è questo è un segreto che poi ci vedremo a posteriori ovviamente ecco qua che bello è intorno ai 100 grammi e quindi già potrebbe abbassare vai per la nostra linea però noi siamo più massicci quindi ci servono due minimo giusto 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 vediamo il secondo uno e mezzo e due benissimo vai 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 mi raccomando e bagnate sempre il bordo e con forza e poi amalgamate così benissimo mamma mia la grande allora andiamo in cottura e come ce li fai? con le vongole benissimo allora allora ci siamo quasi ci siamo quasi bravo vai 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 salta salta piccolino vieni a meno alla piampiancina pugli attorno non deve avere nemmeno un morsetto te lo dico prima uno uno due marone che bello guarda su pomodorini marone bello magnifico questo sughetto è magnifico te lo dico prima guardiamo con queste belle vongolezze yes yeah yeah ah per la mia gioia vai questa è la gioia mia vai vai bebe un po di olio buon appetito anche per te caro chiatone noi ti salutiamo e con un questo bellissimo buona domenica ciao chiatu ciao